Vermi nelle vivande destinate alle guardie carcerarie delle Novate. È la denuncia sollevata dal Sindacato Autonomo Nazionale Polizia Penitenziaria che chiede un sopralluogo ispettivo ai carabinieri del NAS e al reparto di igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale. I fatti risalgono alla serata dell'8 gennaio, quando, si legge nella nota del sindacato, alcuni poliziotti hanno rinvenuto presso la mensa di servizio una cospicua quantità di larve all'interno dei pasti, nella fattispecie del primo piatto. Immediatamente hanno segnalato il tutto all'addetto ai lavori in servizio e alla sorveglianza generale. La segnalazione, corredata di foto, è arrivata anche dai sindacati Sappe e USPP che chiedono la chiusura della mensa del carcere. Non è nuova la mensa della struttura piacentina a episodi di scarsa igiene, si legge nel loro documento congiunto. Provane sia le astensioni del passato e le segnalazioni che riferivano della presenza non proprio gradita di ratti e scarafaggi all'interno del locale adibito alla consumazione dei pasti, addirittura con la predisposizione di trappole per fronteggiare l'assalto dei topi. A nulla sono valse le lamentelle del personale interessato e delle organizzazioni sindacali, conclude la nota, che a più riprese avevano richiesto l'intervento di specifici organi in grado di ripristinare quantomeno un sufficiente livello di salubrità e di igiene per un servizio dovuto e necessario, al tempo stesso rispettoso delle normative e dei contratti che lo sanciscono.